La marescia, a che vi volete fare una giocatina? Giocatevi Pasquale, piazzata la quinta. Poi c'è Checca, piazzata la sesta. Poi c'è Ciulo, qui a Roma. Così se vince Pasquale, più ha la percentuale. Se vince Checca, più ha la stecca. E si perde Ciulo. Ma più non dar culo. Eh, fa il tipo per lui.